Benvenuti nel mondo degli orologi Christian van der Kloh. Christian van der Kloh è un marchio olandese di orologi di alta gamma, fondato nel 1974 dal designer omonimo. La passione per l'astronomia e la precisione hanno guidato la creazione di orologi che non solo indicano l'ora, ma mostrano le fasi della Luna, le posizioni dei pianeti e delle stelle e altre informazioni celesti. Gli orologi Christian van der Kloh sono noti per il loro design elegante e sofisticato, la tecnologia avanzata e la massima qualità e precisione. L'azienda sede agli aure, nei Paesi Bassi, e produce tutti i componenti dei propri orologi, tra cui quadranti, lancette e movimenti, al fine di garantire la massima qualità e precisione. L'attenzione ai dettagli e la cura artigianale rendono ogni orologio un'opera d'arte unica. Il marchio è famoso soprattutto per i suoi orologi astronomici, come il Planetarium e il Real Moon. La maggior parte dei segnatempo di questo marchio non solo indicano l'ora, ma mostrano le fasi della Luna, le posizioni dei pianeti e delle stelle e altre informazioni celesti. Il Real Moon, ad esempio, presenta una rappresentazione della fase lunare con una Luna in miniatura. Christian van der Kloh ha guadagnato numerosi premi e riconoscimenti nel corso degli anni per la sua tecnologia innovativa e il design dei suoi orologi. Nel 2021, ha vinto il Grand Prix d'Orlogerie de Geneve per il modello Planetarium, ACE e Singa, per il planetario eliocentrico meccanico più piccolo al mondo. Sul quadrante si può visualizzare in tempo reale le orbite solari di Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove e Saturno. E non solo, questo segnatempo mostra anche i minuti, le ore, la data e il mese. L'azienda continua a produrre orologi di alta gamma per collezionisti e appassionati in tutto il mondo. I suoi orologi sono venduti in tutto il mondo e hanno trovato apprezzamento tra collezionisti, appassionati di astronomia e amanti dell'alta orologeria. In conclusione, gli orologi Christian van der Kloh rappresentano un'eccezionale combinazione di tecnologia innovativa, competenze artigianali di alto livello e materiali di alta qualità. Il marchio è famoso per i suoi orologi astronomici di precisione, ma produce anche una vasta gamma di altri modelli eleganti e sofisticati per tutti i gusti. Se stai cercando un orologio di alta gamma, Christian van der Kloh è sicuramente un marchio da considerare. Grazie a tutti.